I cantieri partiranno entro l'estate. Il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsilione, è certo, dopo la sottoscrizione con le quattro province dell'accordo per la modifica dell'anticipo di cassa per i lavori sulla viabilità, che sbloccherà gli appalti per i 56 milioni di euro messi a disposizione dal masterplan proprio per la sistemazione del disastrato sistema viario provinciale. L'accordo prevede l'inalzamento dell'anticipo alle ditte vincitrici delle gare d'appalto in via di definizione dal 10 al 60%, così da avere, ha spiegato Marsilio, i soldi sufficienti per completare circa l'80% dell'appalto. I fondi necessari restanti, recita ancora l'accordo, saranno erogati tramite SAL, cioè tramite lo stato di avanzamento dei lavori, fino al 100% dell'importo. Marsilio spera anche nella possibilità che le gare d'appalto facciano uscire fuori i ribassi da statali da consentire di aprire molti più cantieri di quanto già preventivato. Le province avevano a disposizione sul masterplan dei fondi che però non riuscivano a spendere per una ragione contabile di meccanismo di finanziamento che, studiato male, applicato alle manutenzioni stradali. Con la collaborazione degli uffici abbiamo individuato il nuovo meccanismo che renderà più fluida l'erogazione di questi fondi e entro quest'estate gli abruzzesi troveranno un diverso panorama nelle strade provinciali. Da dove cominciare per l'Abruzzo? Da dove comincia la giunta Marsilio? Cominciare da queste cose, affrontare uno alla volta tutti i problemi concreti, farlo con pragmatismo e buonsenso, cercando di capire i problemi perché scoprire che su questo tema c'è stato un lungo dibattito perché inizialmente la convenzione dava solo il 5% di anticipi, le province hanno dovuto urlare, strillare, litigare, discutere per avere il 10% ma questo 10% nelle manutenzioni stradali non funziona e non serve a nulla. Noi abbiamo portato adesso con un confronto con i tecnici e con i nostri uffici del bilancio questa anticipazione al 60% riesce a coprire buona parte dell'importo delle opere e a rendere più efficiente il meccanismo e quindi a permettere a questi cantieri di poter finalmente aprire. Le province sono pronte, hanno già pronte le gare per fare gli appalti e da qui a pochi mesi noi vedremo appunto le asfaltatrici in funzione.